Porca vacca! Adepti, sono usciti i nuovi disegni! Basta cliccare il link, magliette e puff! Come vero magia, Alien Burger e Rappimento ti aspettano solo nel negozio! Ciao! Ciao a tutti, tazzini e tazzini di caffè! Tazzini adepti! Mamma mia! Guarda che l'orologio! Che ore sono? Che ore sono? Figlio! Figlio, che ore sono? Che ore sono? Figlio? E' mezzogiorno! E' l'ora di fare una pre-tuos! Ok Mel, ci siamo! Sei carico, sei carica a palla! Sì, andiamo, vinciamola! Ben, da cont'è che non facciamo una bad boss tra l'altro, ma noi li vinceremo perché... Io ne ho fatta una poco fa! Eh, no, non vale! Eh no, man, io direi che non è anche te! Oddio, c'è Crusty Clown! Devastante, c'è Crusty Clown! Siamo contro Crusty... Ma che simpatico che è Crusty Clown, l'hai visto? No! Devastante, è bellissimo! Allora, man, fammi ricordare un attimo com'era sto coso che non mi ricordo una mazza! Una cipalippa, come funziona? Devi raccogliere i materiali e usarli per acquistare potenziamenti e armi! Ok, 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 quindi dobbiamo andare via, giusto? A prendere i diamanti, sì, adesso vado io! Eh, vai, man, grande, grande, che io intanto tengo d'occhio tutti! Abbiamo qualcuno a distanza in Red Team che non sta facendo assolutamente niente, una mazza! Vai, vai, man, vai! Vai, vai, come i nerdoni, come i nerdoni! Buttati, buttati da morbido! Ben, ma, ricordiamoci che non dobbiamo dire parolacce, eh! Giusto! Ok, ok! Eh, 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 eh! Solo accipicchia, caspita, dannazione! E porca vacca, porca vacca! Porca vacca! Non so se conta come parolacce! Allora, vai, man, prendi te, prendi te i diamanti! Se no, ce ne hai altri qua di... puoi andare avanti ancora o...? No, ma aspetta, prima non andare avanti subito! Ah, dici di no? No, meglio di no! Ben, ma chi siamo? Famiglia versus tutto il resto del mondo? Siamo rosso contro blu, contro... i verdi stanno già morendo, contro gialli, contro acqua, contro bianchi... Sì, 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 contro mondo, contro mondo... Io, intanto, mi occupo un attimo di... pulire... cioè, di mettere a posto il letto, va bene? Di bardare, man, di bardare... Bene, di pulire, di pulire il lettino, ok? Perché il mio figliolo... Il mio figliolo! Bene, non iniziamo a fare i bambini, eh! Non so che ormai YouTube ci vuole così, ma mi raccomando, eh! Rimaniamo con la nostra personality, che è molto più importante, giusto, man? Assolutamente! Grande, grande, man, così ti voglio, così ti voglio, man, sei fantastico, sei fantastico! Allora, perfetto, abbiamo fatto qua... Quindi, io direi, ne mettiamo pure uno sopra, dai, così... Vabbè, faccio così... Ne prendo un po', e poi quasi quasi prendo un po' di scale... Man, facciamo la mega... Mamma mia, le scale! La mega epica bardatura, ragazzi, eh! Ehm, ma vi ricordate... Non le scale... Vi ricordate di un alieno su questo? Occhio, stanno arrivando in blu, stanno arrivando in blu! Dove? Dove? Man, non ti preoccupare! Lo uccido, lo sto uccidendo! Lo sto uccidendo, man, non ti preoccupare! Ma che cacchio! Man, ma porca di quella vacchetta! Man, cacchio, è una parolaccia? Non lo so... Porca vacca, ragazzi! Ma se lo dice pure Peter Griffin, non può essere una parolaccia! Non so più quelli di una volta! Man, come facciamo qua? Occhio, man! No! Ok, è caduto, è caduto, è caduto! Buono così, buono così, ragazzi, buono così! Allora, perfetto, ci siamo, ragazzi, ci siamo! Siamo sulla cresta dell'onda, sulla cresta dell'onda! E noi scivoleremo di brutto! Ok, controllo se arrivano, intanto! Man, l'hai usato il diamante? Valla a pigliare! Vado io? Ce li ho, li ho usati, sì, valli a pigliare! Occhio, man, arriva! Arriva! Come mi ha buttato giù? No, bene, ma sei pazzo! Ha caduto anche lui! Ah, grande, man, grandissimo! Vado a prendere i diamanti, allora! Allora, stiamo calmi, eh! Manteniamo la camera, innanzitutto, perché... Ma dove hai messo, tra l'altro, i nostri diamantucci? Li ho usati per i potenziamenti! Che potenziamento hai messo? Eh, spawnano più materiali e... La trappola! Sì? Sì! La trappola, però, è sempre attiva, quella lì, della blindness? Si attiva, sì! Ok, ok, buono, così, meno, io ne ho altri tre! Cosa possiamo farci? Lascia lì nella cassa e poi vediamo! Quale? Quella! Siamo a cinque, eh! Non vuoi farti il potenziamento? Allora, basta, sì! Vai, fatti il potenziamento meno di corazza! Ok! Ma per te, quando dico ste parolacce a caso, mi potrebbe segnare che dico le parolacce? Tipo? Eh, se dico eucalipto, per te lo vedi come una bestemmia? Ne dubito! Potrebbe essere! Ma soprattutto, secondo voi, cosa succede una volta che capisce che hai detto una parolaccia? Ti sculaccia? Ad esempio, potrebbe sculacciarti tutto? Arriva la polizia a casa, ti suona, dice signora, dobbiamo sculacciare suo figlio? Dice che sei stato arrestato per direttissimo, non so se l'avevi visto il video di Mosca, quando mi hanno detto che c'aveva la droga, quindi mi hanno detto che c'è la droga, e lui, ahhh, l'arresto per direttissimo, ragazzi, se non avete visto quel video, fatevi una storia. Ben, arrivano, arrivano! Arriva. Ben, veloce, veloce, è qua, è qua in alto, è qua in alto, man. Vado a prendere. Oh, no, fai la scala, man, fai la scala, fai la scala! Ma c'è qui la scala. Arriva, sei buttato, sei buttato, mi ha buttato, mi ha buttato, aiuto! Grande, grande, man, mamma mia, che pro che sei, che pro che sei, mamma mia, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma mia! Eh, l'hai mancato di brutto. Mamma mia, perché le fireball vanno dove vogliono, è quello bruno. Dici? Vado a cercare un po' di smeraldo, se c'è... Miglioramento, spada o armatura? Uno smeraldo, man, uno smeraldo! Spada o armatura? Decidi te, spada, bravo, bravo. Vediamo qua, un altro smeraldo qua, man! Uh, siamo a due, siamo a due! Vado di qua, vado di qua, vediamo se c'è un altro. Un altro, altri due, altri due, man, sto tornando! Ben, occhio, non morire, torno. Sto tornando, man, sto tornando, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma gli speriamo un po', ma i blu sono già, ma i blu sono già morti, man. Andiamo rubagli la roba. Chi è che li ha uccisi? Ma secondo me hanno slogato, perché non hanno collegamenti. Ottimo, ottimissimo. Vado a rubagli la roba. Ben, cinque di smeraldo e uno di diamante. Sì, 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 sì. Quanti rimaniamo, man? Rimaniamo in due, più due. Noi che team siamo? Ma i blu sono morti. Ah, 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 oh, ah, 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 ah. Cacchio, un è morto, un è morto, ah, 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 ah. Man, stano arrivando, mi sa, eh? Occhio, man, ce ne è uno tutto iron, tutto iron. Ci compra l'altro. Quattro, vai, tieni. No, man, vai te, vai te, vai te, man, io vado a metterli nella secca. No no non lo so Man figa Grandi ho detto una parolaccia man Eh basta ce la siamo giocati Niente ci siamo giocati il video ragazzi Ci siamo giocati il video porchetta vacchetta Allora mi raccomando andiamo qua Man ti metto i diamanti qui eh Guarda quanti Allora andiamo A prenderci lo smeraldo Lolo 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 qua non c'è niente Mannaggia non c'è niente Di smeraldo Mannaggia 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 Non c'è niente di smeraldo Qua ce n'è uno e l'ho appena preso E adesso vado un po' di là A vedere se c'è un po' di smeraldo Di smeraldo Ti piace la mia nuova canzone eh Credo vincerà il disco d'oro Eh lo so Oh occhio eh che arrivano Occhio porca vacca Questi mi seguono Porca vacca C'è uno smeraldo qua Devo correre Devo correre Ma che cacchio Mannaggia non posso dire le parolacce Ma questo c'ha il Il come si chiama Quello degli hacker È un hackerissimo Mann questo Cos'è che c'ha Uh e ce l'ho fatta pure ad uscire No sono caduto all'ultimo Vabbè ma non ce la posso fare Ho perso due smeraldi Ma se cado Loro li prendono Le mie cose Sì Davvero Ho perso gli smeraldi Ma stanno arrivando Eh li ho visti Grande Ma che mossa ragazzi Da proprio vpr Grande ma c'è l'arco Dove l'hai preso No con l'oro Ma pensa Li ho sciattati entrambi Mamma mia ragazzi Ma eh Ma perché io non ho le tue protezioni Perché non le hai comprato Ben smeraldo Sei Sette Posso farmi L'arco Ho messo qua Sono qua Sono qua Dove Dove sono Mann non ho protezioni Non ho niente Grande man Ma chi sei Ma chi sei Mann sono qua sopra Aspetta Vado a prendermi Le frecce E ci sono da fare Da camper Ragazzi così mi odierete Così mi odierete per bene Perché sarò un grandissimo Camperone di quelli Ok man C'ho le frecce C'ho tutto Adesso Tutti mi temeranno Credo C'è qualcuno qua sotto No Il team giallo è morto Ok Rimandiamo solo contro di loro Dai man ce la possiamo fare Andiamo Cosa ne pensi Riesci a farti un arco Ci serve Allora ci servono L'enderpelle Quanto oro hai Quanto oro hai Mi servono un sacco di 64 più 30 Mann dammi dell'oro Dammi ne 30 Dai Beh è tutto nella cassa Ah ok grande Scusa Scusami Scusami Ah e prendo 35 Mann e prendo Tante di quelle frecce Che vedrai Penseranno di essere a sparta Per quante frecce Cadranno addosso Guarda Sono a Due stack No però a sto punto Aspetta Aspetta che arriviamo A 6 smeraldi Prendo la spada di diamante Poi indiamo Ma non li vedo Probabilmente non sono là Ma saranno nella loro base Dici Mann sotto Non so dove sia la loro base Sento i uccellini Vicino a casa tua Mi raccomando ragazzi Mamma mia Il nostro scrap Che abita nella foresta Fischia nella savana Abita il nostro scrap Quale foresta Beh non li vedo però Ho preso 4 Di smeraldo Ok li vedo Guarda la torna indietro Li vedo Mann uno sta venendo Verso di qua Mann uno sta venendo Verso di te Scappa 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 Non cadere Scappa Devo tenerli a bada In qualche modo Mann li sto tenendo a bada Li sto tenendo a bada L'ho fatto cadere L'ho fatto cadere Mann ma chi sono Ma chi sono Mamma mia Ma respawna Torna alla base Dici Sì dammi gli smeraldi almeno Aspetta Ok ora C'è l'hai te al piccone Sì però C'è Stato spariamo gli un po' No Mann è rotto Mann ma va Andiamo Vai Li tieni te a bada Li tengo io a bada 3 2 1 salta Tieni lì a bada Tieni lì a bada Li tengo a bada Dov'è Vai che rompo Vai che rompo Mann cavolo Vai rompi Sto rompendo Ok vai Mann vai No Mann l'ho ucciso Mi ho ucciso Forse No Non ancora Non ancora Non ancora Sono morto Sono morto Mann ma mi hanno rubato Mann è tutto legno Ci metto secco Mi hanno rubato l'arco Ma senti Ma mi sa che abbiamo fatto Una gran cavolata Ma se potevamo aspettare lì Vabbè Mann ma aiutami Eh Mann come faccio Buttati più che altro Adesso c'hanno le nostre robe Sì Serio No 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 Hanno solo tipo roba Tipo i diamanti Ok Mann Mi faccio subito un arco Se riesco No Mann non riesco Mi faccio l'arco normale Vado a prendere magari gli smè Eccoli Mann È già arrivato Oh Ma che Ho fatto la provata Me l'ho fatto la provata Mamma mia Ho rimandato Ho rimandato la palla indietro Con l'arco Con la freccia Mamma mia che buona Mi dico solo questo Però guarda Che mo' arrivano Mi sa eh Eh Mann devo prendere un po' D'equip E poi india Beh parla italiano Per favore Perché l'italiano Allora vado a vedere Se c'è un po' di smeraldi qua Tecnico tattici Uno Quattro Andiamo Andiamo di qua Andiamo di là Andiamo più su Andiamo più giù Andiamo Ma è di qua Dove stai andando Non lo so È di qua Scrappi Girati Occhio eh Giusto Ma io l'ho ritirato Ma io l'ho ritirato Allora E basta Andiamo Andiamo Oh Mann sta attento Sei pazzo Ecco lo sapevo Mamma mia Aveva una trappola Mai sottovalutare il nemico Mann Mai sottovalutare il nemico Ma tu quante brecce avete Oh ce ne ho ancora un bel po' Credo Ma Mann Ma così gli dai il tempo di rigenerarsi Secondo me Dovevi andare là a uccidere Sì ma Scrappi Ma vuoi capire che lì c'è un buco E ci uccidono Cioè Mann ci prendiamo l'ender pearl Allora e ci lanciamo Eh dove è sta ender pearl Andiamo a far Vado a comprarle io Andiamo a far sta figuraccia Dai Vai Andiamo di qua Sì però Mizzega O sti qua Ma si può giocare così No O che a me sta arrivando Sta arrivando Ho lanciato qualcosa Un è caduto Un è caduto Mè Che vale Dai Andiamo su Però guarda che volevo Tu uccido Quanto ci fai Quanto ci fai Allora aspetta Tu resta là Tu resta là Tu resta là Vai Scrappi Sei entrato Vai Arrivo in chio Sì ma ho la cecità Non vedo dov'è Eccolo qua Mamma mia Ragazzi Mamma mia Il mio figlio Questo è il mio figlio Questo è il mio figlio GG un corno GG un cac Va bene dai Niente Io spero che il video Vi sia piaciuto Ovviamente fatemi sapere Cosa ne pensate Con il mio amicissimo figlio Scrappi Scrappi Fai la voce Fai la voce da bambino Che attrai molto Vai Ciao papà Oh che carino E niente Quindi dai Ci sentiamo Allo prossimo episodio Ciao 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 Scrappi Ciao 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 Grazie a tutti.